ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi è un altro giorno per quanto riguarda il decluttering e oggi vi faccio vedere me lo sono anche scritta per quanto riguarda il video mascara correttore e spray fissante questa è la serie del decluttering ovviamente troverete su nelle schede o giù nell'info box tutta la playlist del decluttering oggi farò queste tre cose mascara ne ho tantissimi correttori attrettanto messi qui nel cassetto e fix ne ho sia qui nella postazione che dentro il cassetto godetevi il video noi ci vediamo alla fine allora adesso iniziamo con i mascara questi contenitori sono una cassettiera che si trova di fronte alla mia postazione e dove io ho tutti mascara perché ho questi cassetti pieni di mascara perché quando acquisto mascara è difficile che lo apra cioè apra più di un tot di mascara i mascara che sto utilizzando in questo periodo sono questi e questi invece sono tutti quelli nuovi non usati credo di tenerli tutti ovviamente perché sono tutti a parte questo che è un doppione perché li ho comprati apposta due dei volume booster di essence per quanto riguarda questi tutto il resto come vedete sono mascara ognuno diverso di ogni tipo se volete poi vi faccio un video apposito comunque ne ho un bel po e sono tutti chiusi perché come vi ripeto ho soltanto quelli aperti in questo lato l'unico che non mi dice niente questo qui che avevo c'è che una ragazza mi aveva mandato e sigillato ma questo in caso lo regalerò perché anche un oggettino molto carino proprio per fare un regalo e sinceramente mi piace molto comunque questi sono i mascara e come vedete sono tutti 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 sigillati perché se io apro un mascara non si trova in questa scatola ma si trova in questa quindi sposto leggermente questa scatola qui e vi faccio vedere il mascara che sto utilizzando e riesco tutti così abbiamo anche una visuale dei mascara allora questi sono i mascara che io sto utilizzando allora posso togliere direttamente questo qui di essence perché quello questo qui è quello per quanto riguarda le sopracciglia è unico e ovviamente lo sto utilizzando poi questi altri sono i mascara di norma che utilizzo questo è quello che vi ho fatto vedere poco fa dove ce ne sono altri due di scorta quindi questo mi piace tantissimo ve lo faccio anche vedere questo è il mascara che da volume al ciglia è ottimo veramente infatti ne ho presi altri e mi trovo benissimo io lo applico prima del di mettere in mascara tradizionale ovviamente non lo lascio asciugare perché se io lo lascio asciugare mi si seccano già le ciglia quindi lo applico un tempo di fare l'altro occhio e metto il mascara quindi ottimo poi questo è quello di astra sublime volume mascara questo è fantastico ha uno scovolino a cono c'è l'ultimo proprio l'ultimo strato diciamo di mascara e poi lo posso anche cestinare perché già questo il secondo non mi ricordo aspettate sarà il secondo il test comunque si può dire che è quasi finito quindi lo utilizzo un paio di volte poi lo cestino poi un altro mio preferito è questo qui di essence che you better work mi piace tantissimo questo mascara mi fa le ciglia abbastanza voluminose mi piace come tipologia di mascara non costa tanto e quindi è ottimo poi e quindi lo tengo un altro mascara e questo qui green volume e se non mi sbaglio di questo io ho anche il backup che questo se non mi sbaglio vediamo se è lo stesso senza ovviamente aprirlo se è lo stesso questo lo regalo perché averne due di questi si è infatti è lo stesso ok quindi questo confezionato poi lo regalo oppure lo vendo lo vendo su vintage quindi se vi interessa lo trovate su vintage quindi questo è un cioè mi piace come mascara mi dà volume perché assomiglia molto a quello di just cosmetics che vi ho detto l'altra volta e mi piace proprio come scovolino perché dice lo regale allora l'altro perché ho tutte queste mascara da utilizzare da provare non mi posso fossilizzare più prima lo facevo su un tipo di mascara o su un tipo di prodotto come ciprie e come altre della tipologia del makeup perché sfornano tantissime cose e se io mi tengo questo mascara mi precludo il fatto di utilizzare tutto il resto quindi sto facendo questa diciamo tipologia di smaltimento per quanto riguarda il makeup se io se a me piace un mascara lo utilizzo bene me lo segno però cerco di utilizzarne tanti altri poi un mascara che ho utilizzato per il fatto di aver partecipato a una scuola di makeup e questo qui allora l'unica cosa che vi posso dire è che mi sporco tutte le volte che lo utilizzo non vedo che mi dà volume non vedo che mi dà niente in assoluto e automaticamente non mi trovo a utilizzarlo sono sincera infatti utilizzo tutt'altro questo lo prendo rare volte ha anche le fibre ma non mi dice niente quindi questo qui lo regalo lo metto assieme a questo poi un altro di essence delle principesse questo qui fa parte delle principesse lo sto utilizzando perché al contrario delle palette o illuminanti non c'è niente di che di particolare quindi anche se lo finiscono non mi non mi interessa il scusate lo scovolino è questo ed fatto a cono però leggermente piccolo non mi dà lo stesso effetto di di questo qui di astra perché se si vede la differenza c'è aspettate così la differenza c'è però posso dire che mi trovo bene anche con questo e infatti lo lo sto utilizzando un bel po' io di solito applico i due mascara insieme e mi danno sia il volume sia la incurvatura quindi questi due per me vanno di pari passo quindi li tengo tutte e due poi un altro di essence che adoro in assoluto è questo qui ed è quello non mi ricordo se quello che ho trovato nel calendario dell'avvento mi piace tanto anche questo è grosso e anche questo mi scor mi sporca le c'è la palpebra però questo io lo utilizzo quando faccio cioè quando metto il mascara e basta quindi utilizzo il mascara e non non ho né ombretto né niente quindi automaticamente non rischio di sporcarmi o se mi sporco mi pulisco tranquillamente senza rovinare il make up il mascara di essence mi piacciono tantissimo il mio preferito vediamo esco qua il mio preferito è questo quindi per questo lo lascio perché la linea diciamo mio preferita e quindi questo lo tengo arriviamo agli ultimi due questa è quella di rude cosmetics ho fatto anche il video di questo sinceramente non mi è piaciuto per niente questo mascara non mi dà volume non mi dà niente assolutamente niente quindi questo lo regalo perché ovviamente essendo utilizzati mascara utilizzati quindi questi due andranno alle mie sorelle poi l'ultimo mascara è questo è molto verino mi è stato mandato qui ha anche uno specchio dove vi potete specchiare e questo è il mascara devo dire che mi piace come tipologia di mascara ma tra tutti quelli che ho è quello che prendo di meno cioè questo lo prendo di meno ogni volta vado su su wicon oppure su su astra con essence e questo me lo dimentico quindi mi dispiace perché mi piace come mascara e quindi lo regalo e poi come vi ho detto regalo anche questo che quello che mi è stato mandato anche dalla ragazza è stata molto gentile per mandarmi questi prodotti ma questi lì cestino e questo per quanto riguarda i mascara allora arriviamo ai correttori alcuni correttori sono ancora chiusi perché non l'ho proprio utilizzati altri invece sono aperti da utilizzare da utilizzare da finire allora come chiuso qui proprio nella parte di sopra vedo questo qui di nabla della regeneration questo ancora non l'ho utilizzato e quindi mi riservo di utilizzarlo in futuro molti li trovate qui invece alcuni li trovate nella scaffalatura che poi vi farò vedere per ultimo un altro di nabla questo invece l'ho aperto lo sto l'ho utilizzato in estate perché leggermente scuro e soprattutto essendo abbastanza secco per il contorno degli occhi in estate avendo una palpebra anche c'è una pelle in estate un po oleosa sono riuscita ad utilizzarlo ovviamente ne serve poco ma poco 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 quindi lo tengo questi due sono quelli di wicon questi ho avuto problemi perché sono un appiccicoso che ve lo dico a fare sono questi e io li utilizzo perché sono a base cerosa ma sono molto 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 leggeri e quindi li utilizzo e questi poi li metterò per quanto riguarda smeltimento prodotti perché ha un bel po che ce l'ho e quindi prima di buttarli li voglio anche utilizzare un pochettino quindi li tengo poi ho due matitoni di elf che sono questi non mi ricordo se la colorazione è uguale adesso lo provo e sinceramente no la colorazione è forse diversa però sinceramente sono quei prodotti che non sto utilizzando e quindi preferisco darli a qualcuno che li utilizza poi ovviamente possono temperarli la fortuna di questi matitoni che si possono temperare e si possono utilizzare non fanno diciamo male poi un altro prodotto è questo qui di fenty beauty che io l'ho tenuto sempre nel reparto di illuminante altro invece è un correttore e questo lo utilizzerò perché mi piace molto il colore cercherò di non sbocciare tutto perché sennò mi perdo di casa quindi questo lo tengo un'altra cosa che tengo ma in sospensione è questa qui di wicon questa è la palettina che ho comprato con gli sconti ovviamente perché è la palette del diciamo dei correttori se non mi sbaglio ci sono quelli per i rossori quelli per le occhiaie queste colorazioni per per provarle ovviamente su altre persone non sono di me perché una pelle secca questa la tengo confezionata se nella scuola che farò spoiler in futuro non questo futuro il prossimo futuro mi daranno diciamo una palettina questa la regalo perché questa è chiusa se invece non non ce l'avrò se invece non avrò quella palettina questa la tengo per utilizzarla su altre persone quindi questa è in stand by nei cassetti del futuro perché ho anche i cassetti del futuro dovete capire poi questo è un correttore di avon sono mi sbaglio sì nella colorazione ferre e questo qui lo utilizzo ce l'ho visto utilizzare all'interno dell'occhio come matita all'interno lo tengo provo se riesco a metterlo all'interno dell'occhio se non riesco lo regalo quindi lo tengo poi un altro è un soft focus concealer di kiko è confezionato quindi deduco che non l'ho mai utilizzato quindi deduco che non lo utilizzerò nelle prossime vite quindi lo regalo poi per quanto riguarda questi di essence come vedete qui sono quelli che sto utilizzando tantissime sono quelli che stanno per finire quindi questi li metterò nel progetto smaltimento prodotti quindi tutti questi qua di essence li metterò tutti lì per utilizzarli e smaltirli a me piacciono i correttori di essence mi trovo benissimo come mi trovo benissimo con quelli di astra utilizzo super giù quasi tutti i colori poi devo fare una cernita su qualche colore che fosse scuro per quanto mi riguarda ma credo di utilizzarli quasi tutti vedete il 2 già è quasi nel finire adesso sto utilizzando il 3 con il 4 perché ovviamente avendo in base all'occhiaio potete andare io mi trovo bene con questi perché avendo queste colorazioni un po particolare riesco a utilizzarle tutte mischiando diciamo facendo un purpurri dei correttori e il numero uno questo qui lo utilizzo invece come base per l'ombretto che devo mettere quindi questo li tengo credo di tenere la maggior parte del correttore perché mi trovo bene la stessa cosa e io utilizzo questo come base ombretto se voglio fare un effetto cioè se mi serve per fare quei makeup color pastello quindi mi serve una base un po più bianca un po più neutra diciamo per quanto riguarda gli occhi uno che cestino e questo qui di elf sicuramente sarà anche finito si è finito proprio perché l'ho utilizzato tantissimo e quindi mi sono trovata bene questo era l'ultimo della serie per quanto riguarda i primer di elf io utilizzavo sia prime come correttore non sapevo utilizzarlo ma ci sono riuscita questo è un correttore di rude cosmetics l'ho lasciato nella confezione perché l'ho utilizzato soltanto una volta quindi mi riservo di utilizzarlo ancora perché sinceramente io mi ricordo che mi è piaciuto quindi lo metto di lato per riutilizzarlo e vedere se mi piace se mi piace lo tengo se no lo lascio confezione cioè lo regalo non lo lascio confezione allora abbiamo questo di mac questo di mac l'ho utilizzato tantissimo lo utilizzo esattamente in estate infatti siamo a buon punto non so se si vedono queste crepe l'ho utilizzato in estate ed è il colore giusto proprio per l'estate per quanto mi riguarda il prodotto è ancora buono quindi non credo di darlo a qualcuno perché già siamo nel finirlo quindi lo tengo poi anche questo con questo qui di revolution come vedete stanno per finire quindi questi correttori li metterò nel borsello o nel cestino poi devo vedere dove inserirli per quanto riguarda i prodotti da smaltire e finire perché ovviamente arrivato a questo punto mi metto di puntigio ma è una cosa tra me e loro e devo cercare di finire il prodotto è una soddisfazione che devo avere questo qui di revolution è il c3 e mi sono trovata anche bene uno che cestino è questo qui di catrice del camouflage liquid non mi sono trovata bene non mi piaceva sinceramente averlo non averlo era la stessa identica cosa perché lo sfumavo e questo correttore se andava cioè non lo trovavo più dove ho messo il correttore che poi mi venivano anche i complessi ma io l'ho messo il correttore domanda e sì l'avevo messo perché poi guardando il video me ne sono accorta che l'avevo messo ma non faceva niente quindi questo essendo anche leggermente usurato e tutto lo butto direttamente poi altri correttori sono correttori sono questi qua di wicon utilizzati anch'essi come correttori io faccio a giro però adesso mi metterò di puntigio e finirò prima un paio di correttori e poi utilizzerò gli altri questi li ho utilizzati mi sono piaciuti ovviamente in base alla colorazione perché prima lo sboccio sulla mano se credo che sia il colore giusto lo utilizzo sull'occhio mi piacciono anche i correttori di wicon e quindi li tengo poi questo non mi ricordo se il correttore se mi sbaglio sì e questo se non mi sbaglio non è stato nemmeno aperto vedo delle crepe ovviamente lo lascerò perché non è stato aperto quindi se una cosa non è stata aperta non dovrebbe fare danni quindi lo lascio chiuso però lo sposto come tutti gli altri nello scaffale dove ci sono i correttori chiusi ancora chiusi poi questo qui di clio makeup mi trovo benissimo è la colorazione 05 mi trovo bene il colore è anche buono nel senso che dipende come ho le occhiaie io non ci soffro proprio tantissimo di occhiaie cioè questo è un massimo che le mie occhiaie potrebbero arrivare ma non ci arrivano né ora né mai infatti utilizzando questo poi si utilizza anche un colore leggermente più chiaro comunque questo mi piace tantissimo quello di clio infatti mi sono trovata benissimo e lo sto utilizzando spesso in questo periodo poi abbiamo alcuni di Wicon questi qua sono quelli di Nilufar l'ho soltanto swatchati non l'ho potuto utilizzare perché poi c'è stato il periodo di covid e non sono né uscita né niente quindi sono soltanto swatchati ovviamente li devo provare li devo testare perché non posso regalare prodotti se nemmeno li ho toccati li ho utilizzati posso farmi un'idea anche se questi sono in edizione limitata però avendogli speso dei soldi sinceramente li devo utilizzare è una questione di principio poi questi sono quelli di Colourpop non ho ancora fatto il video l'ho soltanto swatchati anche questi ovviamente voglio fare un video dedicato a Colourpop quindi presto vedrete un video del genere quindi non vi so proprio dire se mi piacciono o non mi piacciono ovviamente ho preso due colorazioni ho preso il Fair che è questo qui 05V e il Light 40N sono molto curiosa di provarli sinceramente poi abbiamo questo qui di Revolution che è il C6 che sta per finire manca pochissimo quindi anche questo lo metterò in quel reparto poi abbiamo questo qui che è la base per quanto riguarda gli occhi di Essence sinceramente la vedo di qua che è rosa io preferisco quelli un pochettino più giallini e più chiari e quindi questa visto che è confezionata e che non è stata aperta la regalo poi questo lo devo ancora provare l'avevo provato sbocciato ma non l'ho ancora provato perché devo smaltire gli altri e poi per finire abbiamo questo questo è quello di Catrice ed è un liquid eye shadow un liquid eye shadow che è quello che si apre mi sembrava quella con la pallina quindi non è questo vabbè questo non l'ho aperto ancora avevo fatto questo movimento comunque non è aperto quindi lo lascio chiuso nel reparto dei prodotti non utilizzati e poi ci sono quest'altro di Wicon che avevo preso sotto consiglio di alcune youtuber mi hanno detto che sono simili a quelli di mac non è proprio questo il modello di mac però dice che sono abbastanza simili quindi li voglio provare anche questi e idem per quanto riguarda questi qui di Wicon quindi li rimetto nelle loro postazioni e poi ovviamente cercherò di utilizzarli mano a mano quindi li riposiziono invece questi qui li metterò nel reparto dove ho tutti gli altri che poi vi farò una panoramica dove ci sono correttori che non sono stati aperti sono quelli piccoli anche in miniatura che quelli mi porterò ovviamente quando andrò in vacanza quindi questi li vedo a mettere tutti là questi sono i correttori che non sono stati aperti come vedete abbiamo i bordi Sway quello di Anastasia Beverly Hills uno di Wicon vedete un altro di Catrice altri in pot questo di Julius Place un altro di Revolution quello di Dior quindi le inserisco qui nella confezione cioè nella scatolina così so che questi qua verranno aperti quando almeno smaltisco altri correttori che sono nella postazione quindi che li tengo sotto d'occhio va bene? sott'occhio questi sono quelli che sono ancora tutti chiusi altro giro altra corsa oh mio dio questi sono i primer fissanti che io ho nella mia postazione vi ripeto questi sono alcuni perché gli altri nemmeno li vedo perché ci sono le altre bottiglie grandi come quelle di Mac no, quelle di Mac che sono quelle piccoline che io posseggo e poi ci sono quelli di Morphe simile a questo qui di Mesauda e altri tre di di Rare Beauty no, di Rare Beauty di 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 ah, qui ok, li sto vedendo della Glenn Glove di Fenty Beauty l'altro è e di Morphe sono messi qui nel scusate sono messi da questo lato vi faccio il segno col dito sono messi da questo lato nella postazione quindi quelli non si toccano quello che io ho in uso è quello di Essence Alcaffè quindi è messo di lato e lo lascerò lì allora tutti quelli che voi vedete io ve li faccio vedere piano piano sono tutti quelli chiusi sigillati perché non li sto utilizzando perché preferisco fare alcuni prodotti alla volta due, tre prodotti alla volta allora questo qui è quello di Colourpop ed è un setting mist ed è sempre idratante ovviamente lo tengo un altro ottimo fissatore makeup questo è molto consigliato da tantissimi makeup artist è quello di Mesauda che è simile anche per la diciamo la vaporizzazione dello spray a quello di Morphe quindi ottimo poi un altro questo ne ho sentito parlare benissimo preso con lo sconto ovviamente è sigillato ed è quello di Kiko in edizione limitata quello della Fruit Explosion quindi tengo un altro di Kiko sempre per quanto riguarda vedete quelli con lo spruzzino qui è sempre questo e questo è scusate è sempre di Kiko e questo è Olide Fable 4 in 1 Lavander Mist ovviamente è sigillato poi uno che non è sigillato è questo qui di Astra non so se si vede non so se si vede la messo così non si vede comunque così si vede vedete dove arriva è questa qui di Astra mi piace tantissimo io sto utilizzando di più quella a caffè perché mi rinfresca molto il viso lo utilizzo sia prima che dopo ma questo l'ho utilizzato anche quando ho fatto dei make up un po' più particolari mi sono trovata bene quindi lo tengo un altro che è aperto no questo non l'ho aperto no no quello mi sa che l'ho finito era un altro di Wicon ma non era questo della marca cioè con la collaborazione con Niloufar era un altro era simile a sempre a questa linea qui comprata quando ho comprato questa linea quindi questa è uscita tanto tanto tempo dopo questa è quella dove è uscito tutti i prodotti di Niloufar la ragazza che è partecipata a uomini e donne questo non è stato aperto quindi ovviamente lo tengo questo è uno degli ultimi che ho preso ed è idratante glove dicono che è ottimo è di essence prezzo bassissimo quindi lo tengo poi un altro di essence è questo qui della good stuff dicono che è ottimo anche questo ovviamente non è stato aperto e quindi lo utilizzerò in futuro io ve l'ho detto la maggior parte non li ho utilizzati perché non li ho aperti questo è della linea uguale al primer che sarebbe questi che volevo utilizzare assieme per proprio per provare tutta la linea e farvi anche una recensione ma non ho avuto il tempo come vi ho detto già precedentemente quindi lo utilizzerò in futuro poi ho questi due di Catrice uno è multi talent fix spray e uno è un fix idratante vabbè sono tutte e due idratante hanno quasi tutte e due la stessa identica cosa quindi li ho comprati e li utilizzo perché regalarli se diciamo sono diversi ditemi voi i soldi già li ho spesi quindi che me ne faccio li tengo e poi abbiamo questi due di Revolution io ho finito quella al cocco mi sono trovata benissimo e poi ho questo che è idratante e plumping e quindi ovviamente poi lo aprirò quando smaltirò alcuni prodotti e poi c'è questo qui di Essence sempre in edizione limitata quando è uscita questa con il primer e quindi credo che il prossimo che aprirò sarà questo proprio da utilizzarlo assieme al primer quindi come primer qui non c'è festa per nessuno tengo tutto io vi do soltanto questi consigli se avete tanti prodotti o vi piace acquistare tanti prodotti ad esempio se trovo sconti cerco di acquistare un bel po' di prodotti non apriteli tutti perché anche se se vi serve per fare un video e tutto non c'è bisogno di aprirli perché siete uno ma non è che tranne che fate un lavoro dove vi danno la possibilità di truccare altre persone quindi lì potete anche utilizzare i prodotti però sempre si deve stare attenti alla pelle della persona della cliente che avete di fronte comunque andiamo a togliere tutto questo e mi devo preparare i fondotinta aiutatemi perché ho bisogno tantissimo di aiuto bene ragazzi come vi facevo vedere diciamo nel video il fix che sto utilizzando adesso è questo qui di Essence al caffè questo lo utilizzo anche così per diciamo utilizzarlo così sul viso tranquillamente e sono tantissimi lo so sono prodotti tantissimi ma vi assicuro che i mascara messi in quel cassetto sono non utilizzati quindi sono ancora chiusi perché preferisco almeno aprirle due o massimo un tre alla volta quindi quelli mi sono serviti per fare dei video quindi sono state aperti ditemi cosa ne pensate giù nei commenti di alcune cose che sono state alcune cose che sono state trovate sigillate e tutto alcune li venderò quindi trovate anche il link di Vinted le altre invece le regalerò ai miei parenti ovviamente perché essendo prodotti utilizzati sugli occhi preferisco non venderli per quanto riguarda questo video è tutto io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao